Allora mister, adesso basta, è troppo. Io avevo fatto le critiche la prima giornata, sto scherzando, dopo la sconfitta 1-2 con il Pescara, ma stasera se fosse stato un incontro di bugilato praticamente il mister Gastaldello che lo conoscevamo già come giocatore e poi come allenatore avrebbe dovuto fare il classico getto della spugna perché c'è stata una manifesta superiorità contro un'altra tanta manifesta inferiorità dell'Egnaco Salus. L'Aternana ha giocato molto bene, l'Aternana è in crescita, è stata già in crescita a Gubbio e ancora di più a Pesaro, ma con il Pinedo anche a Pesaro ancora di più contro una squadra rognosa, una squadra rocciosa. Stasera l'Aternana non c'è stata partita a mio avviso, non so se lei è di questa, così, dello stesso mio pensiero. Praticamente, secondo me è stato una specie di galoppo settimanale, un galoppo del mercoledì e quindi non ci sarà bisogno, sto scherzando, nel finale di nessun altro allenamento infrasettimanale. Io credo che innanzitutto il calcio è crudele, nel senso che mi dispiace tantissimo per un amico, c'è da fare i complimenti ai miei ragazzi per l'approccio alla partita, perché io la temevo veramente questa partita, specialmente per la legge dei grandi numeri, arrivavano da cinque sconfitte consecutive e temevo l'approccio della mia squadra. Sapevo che se non avessimo avuto un approccio feroce e l'ambizione di voler fare risultato a tutti i costi, era una partita che si poteva complicare, perché io l'ho vista in Legnago varie volte ed è una squadra che può mettere in difficoltà nell'arco della partita. Invece i miei ragazzi hanno approcciato benissimo e il lato positivo è che hanno approcciato bene il primo e il secondo tempo, non facendoli mai entrare in partita. Poi non dobbiamo lasciarci abbindollare dal risultato, perché non voglio dire che il risultato sia bugiardo, ma è una partita che non bisogna farci affidamento, non bisogna spiecchiarsi, sicuramente la squadra ha messo in campo quello che doveva mettere, sono contento delle risposte dei ragazzi che oggi avevo scelto per partita all'inizio, contento dei cambi, sono tutti fatti trovare pronti, i miei pensieri vanno sulle condizioni di Damiani, che dobbiamo capire cosa ha fatto, a centrocampo siamo a corti, con Radini che praticamente non si è neanche riscaldato, aveva un affaticamento al flessore, quindi i miei pensieri vanno già alla prossima partita e accantoniamo velocemente, sicuramente ci teniamo stretti i tre punti perché vogliamo continuare a crescere. Ciao Quindi oltre anche con Radini qualche problema, al centrocampo mi ha anticipato, volevo fare questa domanda, a Loi, con Radini, Damiani, insomma in un reparto è così importante? Dispiace che sono tutti nello stesso reparto, però facciamo di necessità virtù, qualcosa ci inventeremo, indubbiamente giocheremo in undici e ci faremo valere anche ad Arezzo, una partita molto complicata, ma dobbiamo metterci questo spirito perché l'approccio è stato importante, dopo l'1-0 abbiamo fatto altri 5-10 minuti come si deve, poi nell'inconscio ci siamo abbassati un attimino, ci siamo non specchiati però corse non con quella cattiveria giusta, hanno messo 3 o 4 traversoni dentro e capite che le partite cambiano da un momento all'altro, se prendevi gol poi magari potevi vedere un'altra partita, davi coraggio e fiducia agli avversari, e invece sono quei momenti lì che sono di crescita, quando c'è da ammazzare calcisticamente bisogna farlo, e i ragazzi da questo punto di vista abbiamo ampi margini di miglioramento, ripeto, poi bisogna avere sempre grande rispetto degli avversari, il calcio ve l'ho detto è crudele, quindi a me dispiace tanto, però mi tengo la crescita dei miei ragazzi, mi tengo la crescita e la risposta che mi hanno dato chi non aveva trovato spazio ultimamente, e si va avanti, si va avanti con umiltà, testa bassa, accantoniamo e non facciamoci abbindolare da questa serata, che sicuramente ci dice che siamo sulla strada giusta ma che abbiamo tanto da migliorare. Cosa la spinta ad effettuare quei tre o quattro cambi rispetto a Pesaro? Sinceramente Tito non si è allenato da tre giorni, voleva essere della partita, però noi non avendo Martella a disposizione non volevo rischiarlo, Maestrelli volevo metterlo a prescindere, quindi dovevo capire dove metterlo, perché è un ragazzo che quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, si allena tutti i giorni con una cattiveria importante, ha ampi margini di miglioramento, volevo dargli questa chance, infatti secondo me ha fatto una buonissima gara di personalità, lo stesso Donati che tra tutti della Rosa era quello che aveva trovato qualche meno minuti rispetto agli altri, volevo dargli la possibilità, Carboni dopo due panchine di fila non ha mai mollato una virgola, in settimana l'ho visto bene, quindi volevo farlo giocare, De Burr, ve l'ho detto dopo Pesaro, mi era piaciuto molto, quindi avevo l'imbalazzo della scelta, indubbiamente non li potevo cambiare tutti, perché poi vai a intaccare troppo, anzi quattro cambi eravamo un po' al limite, però ero tranquillo, perché poi quando si dicono le cose, se realmente si considerano 23 titolari, poi bisogna dimostrargli che quando ce la mettegli dentro bisogna mettergli dentro, può essere un rischio, ho corso questo rischio, ma dentro di me ero sicuro che i ragazzi avrebbero fatto una prestazione importante, però quello che io ho detto prima della partita, una cosa è non sottovalutare l'avversario, ed ero sicuro per come l'hanno preparata, una cosa arrivare con la cattiveria giusta, perché poi se non arrivi con la cattiveria giusta, se becchi quel momento di difficoltà dentro la partita, rischi di scioglierti, invece devo dire che i ragazzi volevano dalla dimostrazione di rimanere aggrappati a quel gruppo di squadre, che è la cosa principale, è vero che non dobbiamo guardare la classifica, però bisogna cercare di rimanere nel gruppone in qualche modo, e devo dire che per essere un turno infrasettimanale, per noi arrivare da una vittoria fuori casa e vincere in casa davanti ai nostri tifosi cominciano ad essere due vittorie, significa che piano piano possiamo rendere l'ambiente più positivo, visto che arrivavamo, come ci siamo sempre detti, dei quattro mesi dove non si vinceva, quindi c'è solo da continuare così, spero che si crea sempre più entusiasmo, che non perdiamo la nostra anima, che non perdiamo questa umiltà e che si continua a lavorare nel quotidiano con l'atteggiamento giusto come stiamo facendo, senza alzare la testa, questa è una maratona, non è uno sprint sui 100 metri, c'è tanto da fare, c'è tanto da migliorare, ci saranno momenti molto negativi dove magari non starei bene fisicamente, non ti escono trame di gioco, però quello che voglio è che i ragazzi credono in quello che fanno e ho queste sensazioni, che credono e si divertono, questo è molto importante. Grazie a te. Mister, buonasera, innanzitutto complimenti per l'ottima prestazione in campo, però il pomeriggio è stato anche scandito dalla notizia del passaggio societario, quindi le chiedo, visto che Stefano D'Alessandro, che oggi da comunicazione almeno ufficiale, è il nuovo patrone, poi sarà da vedere i ruoli che ricopriranno, lo ha visto, ci ha parlato e soprattutto se poi nello spogliato io dopo la partita, dopo comunque è finita 8-0, avete un po' parlato anche tra di voi di questa notizia. Sì, l'ho conosciuto a fine partita, ho parlato alla squadra, ci siamo parlati e anche questa era una notizia che mi spaventava perché noi non eravamo a conoscenza ed è arrivato all'orecchio dei ragazzi prima della partita, quindi era un'altra cosa che temevo tanto e devo dire che i ragazzi veramente sono stati eccezionali perché non lasciarsi prendere da questi eventi è complicato, però c'è gente esperta che riesce a guidare anche i più giovani e bisogna andare avanti veramente con questa mentalità. Noi è la mentalità, come vi dicevo, che dobbiamo creare, dobbiamo fare la nostra e dobbiamo avere un'anima dentro perché quando non vuoi prendere gol, quando ti richiami, quando prendi per le orecchie al compagno, quando lo sproni, quando lo inciti, sono segnali troppo importanti, ci vuole anima nel giocare a calcio indipendentemente dagli schemi, indipendentemente dalle strategie, è un campo troppo grande per poter pensare di vincere per una strategia o per uno schema, sono undici che devono lottare per un obiettivo comune e metterci il cuore e noi piano piano vogliamo creare quello. Mister, lei parla spesso di fase difensiva, l'ha detto anche poco fa, non prendere gol e sono già quattro le partite senza prendere gol, questo è un aspetto che sta contraddistinguendo in modo positivo questa squadra e poi le faccio una battuta, domani sarà un pochino difficile e gestire l'entusiasmo alla ripresa. No, guarda, l'ho smorzato subito a fine partita, l'ho smorzato perché le cose che vi ho detto a voi le ho detto alla squadra ma perché le credo realmente, io ho fatto i complimenti perché hanno approcciato bene di quello che mi preoccupava ma non dobbiamo lasciarci abbindollare dal risultato, abbiamo fatto il nostro dovere contro una squadra che mi dispiace, che è in difficoltà ed è un risultato, questo qui che temo, perché agli occhi degli altri, agli occhi della gente sembra che siamo chissà chi e quando ci affrontano la doppieranno le forze e ci affronteranno in modo diverso, invece noi adesso diventa molto più complicata la partita di Arezzo dopo questo risultato qua, noi dobbiamo stare ben attenti, non lasciarci prendere noi, intendo noi e voi perché è una cosa molto importante, bisogna tenere i piedi ben saldi a terra sappiamo che abbiamo delle qualità ma c'è da lavorare, non abbiamo fatto niente la prossima sarà la settima giornata, è troppo lunga ragazzi, un briciolo di esperienza ce l'ho anche io anche se è più da giocatore ma è lunga la giostra Mister, buonasera e complimenti per la vittoria come diceva anche in altre conferenze stampe, vedeva sempre che il gruppo si stava cementando piano piano l'ha ribadito anche adesso, l'ha vista in campo, lottare insieme, festeggiare anche insieme ma se vogliamo racchiudere questa partita in una fotografia forse la più bella è quella dell'esultanza tutti quanti insieme a fine partita sotto le due curve che tutti quanti abbracciati ad esultare insieme con i tifosi mi dispiace che non l'ho vista perché rientro qui gliela raccontiamo allora però abbiamo visto tutti i ragazzi abbracciati sotto la curva, loro cantavano e i ragazzi saltavano insieme ai cori dei tifosi due cose che mi sono dimenticato prima per quanto riguarda la fase difensiva anche sulla fase difensiva oggi c'era da migliorare perché non abbiamo scalato benissimo e letto bene il tempo di quando uscire col terzino sul quinto molte volte andiamo fuori tempo per la voglia di recuperare palla invece davanti potevamo stringere un po' meglio con gli esterni e poi quando trovavano il quinto sulle distanze giuste possiamo spaccare col terzino altrimenti si può scivolare dietro linea palla invece molte volte ci lasciamo prendere dalla voglia di recuperare palla porti il centrale troppo fuori sulla linea costringe all'esterno opposto a venire dietro quindi ci sono dei meccanismi da migliorare però con questa voglia, con questa applicazione si riesce sempre a superire all'errore del compagno per quanto riguarda il gruppo non lo dico io se noi vediamo le squadre che hanno cambiato 13-14 giocatori sono tutte in difficoltà nei tre gironi tutte squadre blasonate che hanno speso tantissimo e perché assemblare un gruppo di tanti giocatori non è semplice ma non è semplice creare un'anima quindi devi avere la fortuna di essere credibile devi avere la fortuna di avere giocatori intelligenti giocatori ambiziosi fargli capire che per raggiungere quell'obiettivo bisogna pensare al noi ogni tanto bisogna buttare giù qualche boccone a mano fare qualche panchino in più giocare per il compagno io cerco solo questo di mettergli nella testa poi le qualità sono le loro non le scopro io cerco di aiutarli e mi metto anche io a disposizione dei ragazzi i meriti vanno a loro per come stanno lavorando per come stanno interpretando questa professione per come hanno interpretato questo momento delicato societario e c'è un tutt'uno siamo un blocco unico e questa è la roba che mi rende felice grazie a te buonasera mister ciao due cose una velocemente per quanto riguarda i giocatori che non sono partiti all'inizio e i cambi che giustamente sono entrati bene tra questi magari è rimasto fuori Patanè e non so appunto se è stata una scelta tecnica o se dispiace anche per i cambi sono cinque se no li avrei fatti undici no no per capire se stavo fuori Donnarumma se no se era Ferrante Ferrante no no perché magari nelle ultime partite ha giocato meno solamente per questo però anche Matteo non aveva metto il fatto spazio dopo la prima il cambio di Corradini è stato forzato sono momenti dispiace ma Nicola è entrato benissimo a Pesaro io vedo tutto noto tutto noto l'atteggiamento ha un atteggiamento positivo sta mettendo dentro deve continuare a lavorare con tranquillità i giovani non si devono mettere pressione addosso da soli i giovani devono avere l'umiltà di imparare dai più grandi e continuare a lavorare così poi si toglieranno delle soddisfazioni anche loro perché hanno qualità e li metteranno sicuramente a disposizione della squadra e sono sicuro che arriverà il momento di tutti e invece una seconda cosa sul suo pensiero da calciatore un calciatore di grande esperienza sicuramente non so se è mai capitato di trovarsi in questa situazione di un risultato così ampio qual è il pensiero di Abbade nei confronti dell'avversario dice ai suoi giocatori continuiamo a giocare oppure magari per rispetto dell'avversario ha parlato prima di Castaldello che le dispiace ovviamente per il rapporto che ha oppure magari di cercare di un po' allentare la presa ragazzi il calcio ve l'ho detto è crudele non potrò mai dire ai miei giocatori di far questo o di fare quell'altro dispiace perché vedere una squadra così in difficoltà soprattutto allenata da un amico mi dispiace tantissimo ai ragazzi è complicato quando fai dei cambi che vogliono mettersi in mostra che vogliono dimostrare all'allenatore che anche loro ci sono che vogliono rubare il posto al compagno e queste sono le dinamiche del calcio dispiace poi anche gli ultimi 10-15 minuti la mia squadra è andata in gestione e io gli faccio un grosso in bocca al lupo all'Egnago spero che si riprendano presto sono sicuro che hanno le qualità per potersi rialzare perché l'ho visti giocare spero già dalla prossima e mi auguro che invece i miei giocatori non perdano quella fame e quell'umiltà e tengono i piedi ben salda a terra per continuare il nostro percorso di crescita grazie grazie